Carlo Iannace, primario della Breast Unit nell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati ad Avellino, anche chirurgo senologo, da anni punto di riferimento per l'associazione Amdos, da sempre possiamo dire una vita dedicata alla professione e ai pazienti. Come mai ha scelto di candidarsi, di darsi anche alla politica? Come ho detto in altre occasioni, tutto è politica, anche il modo di quando uno si relaziona con gli altri, quindi comunque non è una cosa differente, come quesessi cosa diventa anche semplicemente il relazionarsi con gli altri. Tutto è un gioco legato ai rapporti con gli altri, questo è politica. Perché ha scelto proprio De Luca? Al di là, come abbiamo visto in questi giorni, del suo proprio rapporto personale che ha con lui, perché scegliere De Luca? Perché oggi come oggi rappresenta forse uno dei leadership più forti che ci sono. Oggi abbiamo bisogno di esempi, di persone che possono fare la differenza e questo una persona come lui la rappresenta in pieno. Lei ha vissuto, possiamo dire da interno e a livello professionale, un po' questa gestione Caldoro, questi cinque anni della gestione Caldoro. Nella sanità come giudica questi cinque anni di gestione? Certo non era facile recuperare il gap degli anni passati, che non è solamente l'amministrazione precedente, è un frutto di tutte le amministrazioni che si sono avvicendate. Certo oggi come oggi è tutto questione di discorso economici, quindi ogni amministrazione si trova a gestire un tipo di impatto che comunque diventa più o meno importante. Ma la cosa più importante attualmente è ridare quello che è la sanità alle persone. Certo risanare significa tagliare, in effetti bisogna dare anche dei servizi, i servizi devono essere migliorati. Quali saranno nel caso ovviamente di un'elezione le priorità programmatiche da portare avanti e da realizzare? Migliorare la rete è che dal merito di famiglia, secondo me, deve essere verso le strutture ospedaliere, quindi migliorare la prevenzione come abbiamo fatto noi con i servizi sul territorio, soprattutto inserendo un ruolo attivo da parte del volontariato che non deve essere solo episodico ma quasi istituzionalizzato. La gente deve dare il proprio tempo alle strutture, al pubblico, in modo da far capire che quella struttura, quell'ospedale, è proprio, non è una cosa che è differente. Si percepisce da parte dei cittadini come se l'ospedale è una cosa completamente diversa e che quasi è un servizio, una cosa distaccata. No, quell'ospedale è tuo, quindi devi rispettarlo e dove potrai avere la cura, potrai avere la vita a volte.